Ancora una volta ciao ragazzi e benvenuti in una nuova serie di Minecraft Si tratta di qualcosa di molto particolare che vi spiegheremo tra poco Intanto sono insieme a Dan, Stefano e Mario Ehi Mettetela di copulare dentro le caverne Allora ci troviamo in una serie di Minecraft moddata Con un modpack che abbiamo costruito noi Ci abbiamo messo dentro una decina di mods Che abbiamo oculatamente scelto Per dare un'esperienza di gioco particolare Nel senso che sarà molto survival Quindi difficile Abbiamo messo delle mod che rendono scavare molto difficile Perché ci crollano le caverne addosso Abbiamo messo la sete Abbiamo messo un sacco di mostri che ci vogliono fare un culo così Abbiamo messo la Twilight Forest Che sarà un reame dove dovremo andare a esplorare Abbiamo messo la Fossils Quindi dovremmo far nascere di nuovo i dinosauri Questa sarà un po' la missione principale Oltre a sopravvivere Ecco dovremmo riportare alla vita i dinosauri Questa serie non ha un nome Perché come vedete dal titolo del video Se mi ricordo di metterlo così Sarà punto di domanda Punto di domanda Punto di domanda Blue Baby Craft Eh Blue Baby Craft Quindi voi dovete trovare un nome per questa serie Nei commenti prima di ogni altra cosa Scrivete quale potrebbe essere secondo voi Un bel nome per questa serie di Minecraft moddata E ricordatevi come sempre Di lasciare un bel sostegnoso pollice in su al video Per vedere una parte successiva Ora Dette queste cose Possiamo iniziare Prima di tutto Onde evitare di crepare come dei cazzoni Io direi che ci serve Dell'acqua Una fonte d'acqua rinnovabile Quindi Dobbiamo crearci Un calderone Io direi Iniziamo subito Abbiamo qualche cosa di partenza Però io direi Iniziamo subito A illuminare sta caverna A raccogliere un po' di roba Ognuno si mette a raccogliere un po' di carbone Ferro Ci servono queste cose Oh cazzo Oh Cristo State attenti Non scavate sopra Aia Allora ho detto State attenti Devo sistemare un attimo un'opzione Fermi Scavate senza fare danno Ok Oh mio dio Qui sta crollando Che è piano Ha trovato gli zombie Aia Allora ci serve del ferro Non allontanatevi troppo Perché non dobbiamo morire Non è una serie hardcore Però Dobbiamo cercare di renderla Quanto più realistica possibile Quindi non bisogna morire a ruota La prima cosa E ci serve da fare Un calderone Quindi ci serve Il ferro necessario Per creare un calderone Secondo me Il modo migliore Per trovarlo È scavare Nella Qui Dove siamo spawnati All'inizio Verso il basso Sì verso il basso In modo da non far Crollare niente Non ho trovato niente Tornate qui Tornate all'inizio Non state trovando niente Aspetta Noi non possiamo scavare Eh? Possiamo scavare Noi Un po' così Perché È bello Il suono di minecraft Molto bello Molto bello No Anche il blocco Il rumore dei blocchi Voglio un po' di più Un po' così Ops Beh Così si sente quando scavo Bah che bello Poc Sembra che Madonna Stai molestando una vecchia Poc Che schifo Poc Poi nella mia Resurse pack Quando raccogli qualcosa Non fa Tac Fa Più 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 Vabbè dove siete? In del grotto Sto scavando qui intorno Non sono ammessi TP O robe del genere Quindi Eh? Se si muore Bisogna tornare a pedania Vi ho perso E non si Ah vedo Mario Ah c'è Anna Quanto ferro abbiamo? Niente Vai Stefano Scava Qui c'è Su in den don Trovo una grotta Trova ferro Senza morire però Allora praticamente Funzionava così Ho appena inventato una regola Trovato ferro Bravo Quando qualcuno muore Quando qualcuno muore Bisogna fare un rituale Che non ho ancora inventato Quindi non morite Perché non l'ho inventato ancora Ah scusa Eh? Un rituale semplice Però insomma Per riportarlo Alla vita Eh? Per riprenderlo Tra noi In modo da rendere Ancora più difficilissimo Questo Questa sfida Ecco Poi ho un'altra Nuova regola Me la L'avevo pensata Due secondi fa Me la sono appena Dimenticata Però mi tornerà Alla memoria E ve la dirò E te scavando così Non c'è pericolo Di caderti tutto In testa Quanto ferro? Quanto ferro? Non ne ho dieci Niente Secondo me basta Per fare il calderone Quante Sì sì basta Andiamo 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 Bravo bravo Madonna E poi c'è un altro Un altro Un'altra regola Ho inventato Quella di prima Che mi è tornata Allora praticamente Voi dai commenti Dovrete E leggere Ad ogni episodio L'uomo del giorno Cioè O la donna Aia Mi è caduto questo blocco in testa Devo stare più attento Resisti Praticamente Quello che Si è distinto Per avere Trovato il maggior numero Di tesori Oppure Per essere stato più utile Con le ricette O piuttosto Con i most Contro i most Eccetera eccetera Quello sarà L'uomo del giorno E voi dovrete votarlo Nei commenti E riceverà un premio All'inizio Dell'episodio successivo Eh Tipo E questo pure Dovrete dirlo voi Tipo Stefano E' l'uomo del giorno Ma quando mai Vince Una spada Di ferro Per esempio Possiamo tornare Si Dai Andiamo Riendiamo Io sto raccogliendo Carbone Ai fossili Per ora Li lasciamo stare Li prendiamo Li prendiamo La prossima Insomma Come prossimo obiettivo Per ora è presto Dobbiamo pensare a sopravvivere Se venite qua Si esce Qua dove? Qui No Qualcuno mi ha chiuso dentro Lion Mario Non sono stato io Anno Forse ti è crollata la venire Venite qui Questo è stato Mario Mi dai una mano Per piacere Perché Oh che cazzo Vieni Andiamo Anna Ecco Qui Devi venire Qui Andiamo Venite I si Ah no Di qua Di qua Di qua Ho trovato un'uscita Di qua Ma lì c'era un serpente Non c'è un serpente Silenzio Illuminiamo un po' Che fa schifo Tutto buio Vedete C'è un terrazzo naturale qua Oh Cristo Mario no Hai causato una frana Piano Calmo O alberi Ok dammi il ferro Vieni qua Che cos'è questo Dove sei E tu lì Delle rive Ma tutto no però Allora aspetta Ci serve del legname Per fare la La crafting Dove sta Laggiù ci sono degli altri Io e Stefano Andiamo a raccattare il legname Voi ammazzate le mucche Per prendere cibaria Sono molto buio Queste cose Aiuto Stefano Una frana Aiutami Aiutami E adesso Eh vabbè Per questo episodio Ancora non abbiamo deciso La punizione Quindi Lascio la tua roba lì Mi sento Grazie Mi tipizzo Per questa volta Dove sta Oh mio dio Cazzo è stato tremendo Come è successo C'è un ape C'è un ape Mi sta attaccando Sei allergico Ecco Ma muore Ok questi sono dei piccoli alberelli Vanno bene No Sono dei grilli Eh Attento Stefano ti sei inculato la mia ascia Cos'era? Perché Ah le torce danno fuoco Spegni 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 Spanca Spanca Eh Sento un grillo Ah Un grillo Mi fanno schifo Mario Mario il grillo Lai Sono ustionato Chi è ustionato? Io non so che fare Vai in acqua Sono Heartstroke di livello 2 Ah Oh oh E infatti sta facendo caldo Guardalo Mario No no Tranquillo Ti curi Stai in acqua Mario è morto No sta peggiorando Lai Ok Ok Ecco il burrito Ma Ho bisogno di cibo Penso che stando in acqua Sei curato Mario torna qua Presto E il grillo ti ha ammazzato Mario Qua c'è una lucciola Mario Ho sentito un suono Con il clero La lucciola Vabbè Mi sa che Mi sa che Mi sa che Che è successo? Ho visto una freccia Che ci arrivava Nella tempia Ma nella tempia Ma di chi? Aspè Perché? È morto Perché c'era uno scheletro E ho visto Dove stava? Oh merda È vero C'è uno scheletro Stava aggirato Mezzo così Un coniglietto Un coniglietto E c'è la stecca dura Vabbè torna Dai devi riprenderti la roba Comunque io ho preso un pochino di legno Secondo me era meglio se la notte non andavamo in giro Però Ma ci leviamo da qua Infatti torniamo Il serpentone Ciao aiuto Torniamo da Anna Mario Anna è qua Io sono qui Anna perché hai un coniglio in testa? È un animaletto Si chiama Fluffy Voglio pure un coniglio No tutti i conigli che vi metterete in testa finiranno morti Aiuto c'è uno zombie Stefano la tua roba è qua Vieni Andiamo venite Venite con me Ma io ho paura C'è l'erba alta Qui ci sono le schife Prendo un altro pochino di legno Quanto legno avete? Io niente Voi l'avete preso Venite Venite appresso Venite appresso Qui ce n'è uno Queste non sono mucche sostanzialmente Maia Scusa scusa Ma sto posto fa cagare Allora facciamo una cosa intelligente Quanta sete avete? Piena Piena Può riempire bottiglie nel mare comunque L'acqua di mare non si può bere Io l'ho bevuta E fa peggio Allora Mi preparo Preparo Dunque Una crafting table Che è la partenza di minecraft Come ben sappiamo Così E faccio delle barche Con le barche andremo a cercare un posto migliore di questo Perché questo fa proprio cagare All'esplorazione Saremo gli street sharks Street sharks Quattro Quante siamo noi? Quattro Il coniglio? Il coniglio non viene Come no? Tieni Stefano Barca Non ci posso menar conigli Anna Barca Che è in testa Mario Barca Riprendi la tagli Andiamo No l'ho avuto io Venitemi Ma a me non sta a usare l'ascia Vabbè Anna ma perché non capisci le cose? Perché? Ho provato a legnare Però niente Andiamo Venitemi appresso Quanto mancherà al mattino? 10 euro che ci sbattiamo E si rompiamo No Piano Piano Cauti Ma non si vede una minchia Andiamo l'aione E venitemi appresso voi Circonnavigliamo Potremmo circol... E' vero Che... No Piano Piano Fermi E se c'è solo scuola e ci mangia? Qui a destra 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 Qui Mi vedete? Come si gira? Ok Venite Ok qua già è meglio Qua è più pianeggiante Però continuiamo Finché non ci schiantiamo male Oh c'è una costruzione lì Lion sulla destra La vedi? Questa piccola No di qua Sulla destra qui Guarda Di qua ci sta una specie di... Mi sono andato a... Ci sta una papera Posso recuperare la nave Vale la pena fermarsi? Stanno delle capocce di scheletro Vai mi fermo Ma la barca la posso riprendere? No vero Non lo so Mi sono buggato Ah io a che sbaglio ho bevuto l'acqua del mare Arrivo e dove siete? Mi sono fatto male No Scendete Dove sta la costruzione? Eh ma sto schifo Te mi fermi per sto schifo È bello Ma è uno schifo Non credo che sia nulla Sanno tante streghe lì Lion Perché non illuminate? Ah guardatemi adesso Perché vi dia fuoco l'erba Oh merda E toglietela allora Togliete l'erba Togliete l'erba Un incendio Incendio Togliete Incendio Incendio Lì mi sa che c'è una più grande ancora No vedo Indica Indica Lì di fronte a noi Andiamo È vero sta sorgendo il sole Bello bello Andiamo Attenzione c'è uno scheletro però Vai Mario Dove cazzo è Stava guardando un pesce Mi sta Aia Aiuto C'è pure uno zombie Aia Madonna Gancatelo C'è un cavallo bianco Ok Una talpa Una talpa di me Attento è pericoloso Attacca l'AIDS Venite Perché io cammino piano Oh mio dio Sono Ho freddo Qualcuno mi Ipotermio Eh Come si può fare Ehi ma qua ci sta uno spawner Mario esci Quella è una rovina Non c'è un cazzo Che cazzo Raga un cinghiale Un cinghiale Ma non c'è il loot Questa acqua dovrebbe essere buona Eh Oh Ehi zombie Come va Ok calmi Provo l'acqua No Venitemi appreso State dicendo troppe cose diverse tutti assieme Io sto in ipotermia Ecco pure io Quindi Allora Qua c'è un panda No Non lo tocca È panda suo In via d'estinzio No Rimane seduto Ti aiuterò ad ammazzare No lascialo sta Venite ho trovato qua Ma qualcuno di voi può farmi per favore un fuoco Perché sto morendo Basta mettere una torcia Ok Stiamo qua Mario Dentro la torta Ti vedi già si è alzato il calore Sì piano piano Vi levate da dosso Ma siamo tutti infreddolosi Eh Mi si è tolta Mi si è tolta Basta stare l'uno sopra la torcia forse Ciao Ciao Al prossimo episodio